Raga, è uscita la modalità Lego Questa è la mia schifo sex Samuel, vieni, vieni, guarda Ecco Franci Muori Ok, vabbè, falliamo Dove sono io? Chi sei? Io sono io Aspetta, ho la risposta all'ultima domanda Il mio nome è Bombararo Lucente Piacere di conoscerti E tu sei Samuel Cugino? Perché mi sono familiare? Non avevo mai scoperto un posto così dall'aria Così nuovo come questo Ma sono felice che siamo qui insieme Potrebbe essere pericoloso là fuori Meglio prepararci per sicurezza Prepararci Sai, finito di fare i video? No, si sta ancora Sai, ho una zucca, guarda Adesso me la mangio La puoi mangiare? Figo Buono, adesso ho due cuori Ma la cacca Ma fertilizzante Un sasso Sì, ma ho raccolto la cacchina Aiuto Sul ragno Qua Piccchera piccchera Ma come salta sto Prendendo la ragnatina Ma dobbiamo rompere gli alberi Ciao, ho fatto un falò No Muri albero brutto scemo Colgo i ramboni Ho fame Ho fame Che buono Chi è muo questo qua? No C'è lui da fare di un po' privato Cosa vuoi? Aspetta! Dammi il tempo di... No, ho fatto un po' privato Ah, ok Dovevo costruire un falò Eccolo Sì, vieni con me Vieni con me Vieni con me Allora Lo mettiamo proprio qui Voi dobbiamo fare una casa dice Qua c'è una crafting table Sì, serve una piedra Sa No, cosa? No, sa Per la crafting table Per la crafting table Serve 5 pietre E come su una pietra Ok, vabbè ragazzi Questo era il mini gameplay Che ho fatto Di tutto questo qua Del Ligo Fortnite E ci vediamo Ciao